Ehi McFly! Ehi McFly! Ma che ci fai qui? Biff! Ehi, sto parlando con te McFly, irlandese del cacchio! Ciao Biff, ciao ragazzi, come va? Hai fatto i miei compiti McFly? Ah, siccome pensavo che dei compiti tu ne hai bisogno... Hello? Hello? C'è nessuno in casa? Eh? Usa la testa McFly! Pensa! Devo avere il tempo di copiarli! Sai che succederebbe se presentassi il mio compito con la tua calligrafia? Mi caccerebbero da scuola! E tu non vuoi che questo mi succeda, vero? Vero? No, certo! Non voglio che questo ti succeda, Biff! E tu cos'hai da guardare, pidocchio? Ehi, guarda questo giubbotto di salvataggio! Il pidocchio ha paura da affogare! Allora i miei compiti McFly! Ok, Biff, vuol dire... Vuol dire che li finisco stasera e li porto a casa tua domani di prima mattina! Non troppo presto, la domenica dormo! Oh, hai una scarpa slacciata! Non ti cascare tutte le volte McFly! Non ti voglio più vedere in questo bar! Ok! Ciao, ciao! Ciao! Ciao!